Lele ci ritroviamo per questa intervista perché dobbiamo parlare di un argomento molto importante ovvero il tuo inserimento, il tuo come chef del ristorante Letizia ovviamente su un'importante e prestigiosa guida europea dei migliori ristoranti d'Europa. Sì, è stata davvero una sorpresa, è un piacere, la guida si chiama Eurotoc e è una selezione dei migliori ristoranti d'Europa c'è per farvi un esempio illustri colleghi, c'è Gennaro Esposito in Italia, Heinz Beck, tantissimi altri, io non li conosco neanche tutti. Sono comunque nomi di prestigio, insomma, e tu fai parte, sei entrato nella Serie A? È davvero, è stata una sorpresa, io mai mi si è aspettato un riconoscimento del genere, una segnalazione del genere. Com'è andata? Allora è andata che è venuto l'ex direttore del Fort Village Resort qua di Pula a mangiare con la moglie e quindi io l'ho riconosciuto, non ne ha mai venuto nei suoi anni di attività, noi siamo aperti ormai 40 anni e io ci sono da quando ero baby, anche prima. E quindi è venuto a mangiare, io l'ho riconosciuto, anche se è grande, ormai di Ettavra, ha superato i 60 anni diciamo, si chiama Paolo Milani lui. Ha mangiato molto bene, tutti i piatti, mi faceva i complimenti perché io poi uscivo personalmente. E' vero che non si fanno selezioni fra i clienti, ma c'era un grande maestro, allora io andavo quasi sempre da lui. Giustamente. E quindi molto contento, mi ha detto, Manuele cosa ne dici? Ti segnalo a Eurotoc. E ho detto, Paolo, che cos'è? Ma vedrai che cos'è, è una guida, ti chiama il presidente, Gatsfinger mi sembra che si chiama, poi nella guida lo vediamo bene il nome. Ti chiama il presidente e gli dice come funziona. Loro segnalano, lui Paolo mi ha segnalato, poi loro mi fanno tante di quelle domande che non te rimangi, voglio un escurso fotografico incredibile. Poi ritornano, sentono il segnalatore e dicono, ah, possiamo inserirlo. Lui ci sta? E io ho detto subito di sì, naturalmente. Non sapevo che c'erano questi colleghi, io non conoscevo Eurotoc. Poi ho visto nei servizi, stessi alla notizia, altre testate importanti, di vero nazionale, che veniva pubblicizzata. E ho detto, cavolo, allora ci sono anch'io. E mi fa piacere perché può essere un'altra perla per i sulcis. Nel senso che portiamo avanti i nostri prodotti, io sono uno dei primi che utilizza, qualsiasi cosa nasca e cresca nel sulcis. Quindi può essere, diciamo, in là per un'eventuale produzione. Mi fa davvero piacere. Fa piacere anche a noi che continuiamo, grazie anche a te e al tuo ristorante, a tenere alta la bandiera del sulcis iglesiente anche sul fronte, diciamo, enogastronomico. Ah, grazie, grazie. Una cosa che gli era piaciuto, mi ricordo molto, è la nostra fregola. Io la faccio in maniera completamente diversa, la faccio come quasi un risotto, si chiama così infatti, ed è cacio e pere, pepe e pere. Utilizzo un formaggio qua di Sirai, una fregola che mi fanno a Oristano, buonissima, quando non ho tempo di farla io, e viene manteccata ed è qualcosa di incredibile. E quindi loro sono rimasti stupiti da questa fregola. Va bene, ok, gli ho detto, grazie. Grazie per aver fatto venire fame a tutti adesso. Ah sì, grazie a voi, grazie a voi.